Emergenza Campomarzo, un'emergenza da affrontare a cominciare dall'alto, dal governo, per questo oggi la Lega lancia un'istanza forte, importante. Sì, chiediamo l'intervento diretto del sottosegretario agli interni Achille Variati, che è stato sindaco di Vicenza e ben conosce il problema di Campomarzo, avendo governato questa città fino a qualche mese fa. Con Matteo Salvini avevamo instaurato un rapporto positivo, diversi blitz appunto a Campomarzo sono partiti su suggerimento del ministro degli interni, adesso il governo è cambiato, PD e Movimento 5 Stelle governano a Roma, quindi chiederemo un intervento concreto. Bene, registriamo questo appello che coinvolgerà tutti i parlamentari vicentini, perché il problema è di tutta la città. Sì, assolutamente, Campomarzo è un tema che dobbiamo affrontare insieme, lo Stato deve metterci delle risorse importanti, come amministrazione dal punto di vista della sicurezza stiamo facendo veramente molto, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti e quindi chiameremo tutti i parlamentari vicentini di tutti i partiti politici per sedersi attorno a un tavolo insieme al sottosegretario Achille Variati e spero che accoglierà l'invito per trovare una soluzione definitiva appunto per la sicurezza dei cittadini a Campomarzo. Bene, l'invito è lanciato, se non arriverà prima da parte vostra ad Achille Variati glielo porteremo noi di Rete Veneta direttamente, siamo sicuri che Achille Variati accoglierà questa opportunità? Sì, noi siamo fiduciosi, penso che parlare della città di Vicenza e parlare soprattutto di sicurezza, un tema che oggi è delegato a lui come sottosegretario, sia un qualcosa che può aiutare la nostra città a risolvere un problema che noi come amministrazione ereditiamo e che Achille Variati, avendo governato per dieci anni, conosce molto bene. Grazie. Grazie. Grazie.